Tutto pronto a Calatabbiano per i festeggiamenti del patrono San Filippo Siriaco. Quest'anno la festa cade il secondo sabato di maggio ed invariate restano la fede e la devozione con cui tutti i cittadini ma pure molti devoti di altri paesi e forestieri partecipano alla calata di San Filippo e alla chianata della domenica successiva. Stamane di buon mattino i fedeli hanno assistito alla messa nella chiesa del Santissimo Crocifisso dove si è svolto anche il tipico momento della vestizione di fiori del santo. Pomeriggio alle 17 la fanfara dei bersaglieri dell'Etna sezione di Belpasso renderà omaggio ai caduti davanti al monumento e poi accompagnerà clero, autorità civili e i portatori nella chiesa del Santissimo Crocifisso al Castello. Da qui alle 18.30 la tanto attesa calata che verrà anche trasmessa in diretta streaming dalla Promoloco a partire dalle 18.20. La calata verrà annunciata da tre colpi di cannone. Il Fercolo, portato a spalla dai devoti, partirà dalla chiesa per dirigersi verso il centro del paese. La processione parte con la vertiginosa corsa che dal castello di Calatabbiano scende attraverso la strada di Gradoni in Pietrabianca. San Filippo Siria, con acqua in Siria nel 40 d.C., incaricato da San Pietro di evangelizzare la Sicilia, giunse anche a Calatabbiano dove convertì al cristianesimo gli abitanti del luogo. Qui compì pure diversi esorcismi. Proprio nella cittadina etnea, San Filippo sarebbe stato sfidato da Satana. Il demonio lo legò con catene, ma lui, liberatosi, legò a sua volta il diavolo con un filo della sua barba, inseguendolo fino all'inferno, dove uscì ricoperto di fuligine, da qui il colore del volto. Il rito della doppia processione rappresenta la velocità con cui San Filippo simboleggia la sua rapidità nello scacciare i demoni. I nastrini colorati, detti misure, che indossano i devoti, simboleggiano i peli della barba con cui il patrono legò Satana. Questa sera, dopo la processione, alle 21.30, Piazza del Mercato accoglierà uno spettacolo musicale a cura dell'amministrazione comunale. Domenica 22 maggio, alle 19, si terrà la chianata di San Filippo.